salve ci troviamo qui in questo campo di olivi alla ricerca della forficola auricaria è un insetto prevalentemente onnivoro anche se è molto dannoso effettivamente se disturbato molto pericoloso la forficola auricaria è un insetto fitofago dell'ordine dei dermatteri ci troviamo molto vicino a un nido delle forficole guardatelo aspetta sentite anche voi che sta succedendo che ehi guardate guardate lì che cos'è assurdo no è veramente assurdo non avevo mai